Nel paese del sollevante sembrano riscuotere consensi a palate e allora anche Lexus, brand da sempre simbolo del lusso sportivo, non poteva sottrarsi alla contesa con la sua nuova RC. Sicuramente questa è per noi un'icona, quindi la vettura non avrebbe molto spazio in Italia, aspettiamo però la versione derivata da questa vettura che ha essenzialmente tutte le stesse caratteristiche di sportività, di handling, di tenuta di strada, di grinta sportiva su una versione ibrida perché evidentemente noi abbiamo un posizionamento chiaro e da questo non vogliamo cambiare che è unici 100% ibridi sul mercato italiano.